Inaugurata presso la Galleria Petrecca la mostra delle cento e più maschere carnevalesche realizzate in merletto al tombolo dalle sapienti mani delle donne dell'associazione Il Merletto di Isernia, l'arte nelle mani. Momenti di commozione nel tagliare il nastro per una inaugurazione sentita, partecipata, viva che ha visto presenti, oltre le merletteaie Isernine, anche gli assessori Ovidio Bontempo e Domenico Di Baggio. A rappresentare la regione Vincenzo Cotugno e Filomena Calenda, tutti accolti dal padrone di casa Gennaro Petrecca che ha posto l'accento sulle difficoltà molisane a fare rete per proporre adeguatamente la cultura. L'assessore regionale Calenda ha detto il mio applauso e la mia ammirazione per queste donne capeggiate dalla presidente Carmela Iavarone. L'assessorato al lavoro e alle politiche sociali non può più essere lontano da un'idea vincente che aspira ad essere volano culturale ed economico di Isernia. L'assessore Cotugno ha promesso dal suo canto che il merretto di Isernia troverà ospitalità nello stand molisano alla BIT di Milano. Commossa Carmela Iavarone, presidente dell'associazione, che ha ringraziato tutte le sue amiche e colleghe dell'associazione. Ma ascoltiamola. Questa cosa è nata l'anno scorso, dopo l'albero di Teledon abbiamo fatto subito le maschere, però abbiamo fatto solo dieci maschere. Poi abbiamo fatto l'albero, l'albero della felicità e le merlettaie hanno voluto questa grande mostra delle maschere di carnevale. C'è una grande identità, c'è il passato e dovrà esserci il presente se veramente tanti bimbi si riescono a scrivere e cerchiamo di portare tanta gioventù con noi. E il merletto è importante perché è un qualcosa che oggi si lavora poco, si lavora poco e noi dobbiamo fare di tutto per far riprendere questa grande arte.